Allora, la vincitrice della 63esima Sagra del Mare è Francesca Persico. Questo è naturalmente il dono che viene di solito nato alla graziella vincitrice da parte dell'amministrazione donna. Auguri, complimenti ancora e complimenti a voi tutte. Posso consigliarlo io questo? Lo voglio fare io. Allora, Francesca, sorridi, no? Dai! Sei contento o no? Ecco, lasciamola ai fotografi, dai! Quest'isola, vero? Per quest'anno è in bocca al lupo anche a tutti voi che avete partecipato. Grazie, grazie veramente di cuore per tutto il lavoro che hanno fatto e soprattutto per la gioia che hanno saputo trasferire in queste ore e giornate di lavoro. Francesca, allora Francesca Persico è la nuova graziella, la 63esima graziella di Procida. Allora, eri la favorita su internet, eri già data per vincitrice. Grazie, sono troppo emozionata e non riesco nemmeno a parlare. Va bene, i tuoi fans comunque hanno avuto ragione, quindi li vogliamo salutare tutti. Allora, tanti auguri per un anno di graziella, ciao! Allora, siamo con la madre di Francesca Persico, come si chiama lei? Rosalba. Rosalba, giovanissima anche lei. Lei che cosa pensa della vittoria di sua figlia? Sono contentissima, non me l'ho aspettata, è stata una bella sorpresa, veramente sono contenta, sono molto contenta. Ma lei non ha mai partecipato alla graziella? Io no, mai, mai, mai. Quindi una bella soddisfazione, sua figlia ha incarnato entrambi i desideri. Tutti noi l'abbiamo sempre invogliata, anche gli anni precedenti, era più piccolina, poi adesso l'abbiamo consigliato anche quest'anno di farla, perché è adatta. Era molto molto bella, infatti era data favorita anche su internet, però Piccina forse ora sta crescendo con questa manifestazione, tremava un po' come una foglia. Sì, è vero, era molto emozionata. Allora complimenti signora per sua figlia. Grazie. Grazie.